Non solo musica, naturalmente pianoforte, ma anche incontri culturali ed artistici. Nel Parco delle Foreste Casentinesi, Claudio Facchinetti, giornalista pubblicista dal 2004 e biologa marina, ha presentato per la prima volta il suo nuovo libro per bambini, Lasciami Andare. La natura ci insegna tantissime cose ed è il mio compito, proprio quello, almeno quello che io ho deciso, è di dare voce alla natura attraverso la narrazione, attraverso le storie, tutte storie vere da cui parto, per andare a toccare il cuore di tante persone, non solo degli appassionati di scienza, ma anche di chi di scienza non si occupa e di chi non si è mai interessato della scienza, ma in realtà è proprio, la natura ci insegna talmente tante cose che non si può non ascoltarla. Il libro racconta la storia seguita in prima persona dalla scrittrice di una famiglia di orche che approda stranamente nel porto di Genova. Le orche nel Mediterraneo non ci sono, si erano ovviamente perse, erano arrivate per motivi che ancora oggi non hanno mai scoperso con un cucciolo gravemente malato. E quindi questa mamma orca non ha mai voluto lasciare il cucciolo, per molti giorni è rimasta con lui e lo suo capezzale, anche quando non c'era più speranza, finché appunto ha dovuto lasciare andare, attraversare la tempesta e andare avanti. Quest'anno il festival ha poi ospitato per la prima volta la residenza di arte contemporanea Traccia nel Vento. Gli artisti invitati hanno realizzato vessilli pittorici negli spazi di Prato Vecchio, le opere poi sono state esposte all'ex Lannificio Verti e la pittrice Alessandra Chiappini infine ha donato il suo standardo all'azienda Estra, sponsor del festival. È un'opera che si colloca nell'ambito del paesaggio, come faccio da diversi anni, insomma, è il mio tema. È un paesaggio che di solito si concentra sull'idea della vastità, della luminosità. In questo caso è stato particolarmente ispirato dal verde straripante, esuberante, che ho trovato lungo l'Arno qui e che mi ha proprio dato una sensazione molto molto forte che ho cercato di restituire. La nostra postura anche imprenditoriale e commerciale non può che essere nel segno della prossimità e quindi a sostegno di tutte le iniziative che qualificano e distinguono un territorio bello come il Casentino, che ospita ormai da sette anni una manifestazione di alto livello culturale ma leggibile anche alle persone meno addentro alla cultura musicale. Qualcosa che sta promuovendo ulteriormente un territorio, un'area interna che ha bisogno di strade nuove nel segno dell'ambiente e anche della cultura per tornare a godere di uno sviluppo sostenibile.